Voi sapete, forse ricorderete che abbiamo avviato un tentativo di presentazione a più voci di libri, la volta scorsa si trattava di molti libri nei quali abbiamo cominciato a parlare della storia del baccalà visto da molteplici punti di vista e abbiamo fatto centrare i nostri discorsi sul tema del viaggio. Questa volta partiamo dalla questione della pestilenza, vi presentiamo questo libro che l'edizione CR abbiamo proposto alcuni di noi soci dell'Associazione Progetto Rialto all'editore CR di Verona, l'editore CR l'ha accolto con direi entusiasmo e ha rispolverato a questo scopo questa serie di libri di piccolissimo formato che a noi sono apparsi molto bellini, ci ha fatto veramente piacere, siamo contenti e ringraziamo molto la CR per questa scelta. Questo libro è stato scritto da quattro storici, i coautori, i curatori di questo libro sono quattro storici, ma un tentativo, come capirete, sentendo i presentatori, i nostri interlocutori oggi, è di passare dalla storia al presente. Quest'anno, devo dire, i libri, gli articoli, perfino le mostre che parlano di peste, delle peste del passato, sono state moltissime, veramente molto numerose, sottintendendo un confronto fra le epidemie del passato, a partire da quella descritta da Tucci del 431 con le guerre del Peloponneso, alla peste del 300, la peste nera descritta dal Boccaccio, a quella del Manzoni, fino alle riletture di Camus, devo dire che gli scritti sono stati davvero moltissimi e di diverso tenore. Quindi, se volete, la proposta che vi stiamo facendo oggi non è particolarmente originale. Anche se noi come associazione abbiamo cominciato ad affrontare questo tema, a parlarne e a pubblicare sul nostro sito lo scritto di Rocco Benedetti, del quale parleremo oggi, nel marzo del 2020, quando ancora non era così, come dire, esploso questo interesse per la questione del confronto fra il passato e il presente. Per di più, il contagio del quale parliamo oggi non è poi così conosciuto. Lo è sicuramente per la costruzione del Chiesa del Redentore alla Giudecca da parte del Palladio, lo è altrettanto per la festa, che è sicuramente una delle feste più care ai veneziani, ma insomma poi la descrizione di che cosa succedeva durante il periodo, compreso tra il 1575 e il 1577, non era particolarmente studiato. So bene che rivendicare di essere arrivati per primi fa un po' ridere e è un vezzo da ricercatori che suscita un po' di ironia. Ma in realtà, appunto, come dicevo prima, essendo i co-curatori di quattro storici, abbiamo deciso, eravamo stati molto incuriositi da questo scritto di Rocco Benedetti che per alcune ragioni che ci hanno fatto, che stanno a cuore all'Associazione Progetto Rialto e che riguardano sicuramente il passato, ma che appunto vanno al di là del passato e ci riportano al presente e in qualche misura anche al futuro, dove a noi sembra che Venezia possa essere, forse più di altre, è un grosso punto interrogativo e lo pongo sul tappeto proprio come un punto interrogativo, possa essere una città nella quale coniugare lo studio della storia con l'innovazione potrebbe forse essere la vera scommessa di questo periodo, di questo momento che stiamo vivendo. E allora quello che abbiamo proposto pubblicando questo libro e che vi riproponiamo oggi è proprio quello di non solo riflettere sulle analogie che sono abbastanza incredibili fra quello che il notaio di Rialto, Rocco Benedetti, descrive nel 1576 e quello che noi vediamo sotto i nostri occhi e sono le notazioni sul silenzio della città, sui canali, sugli animali che si riappropriano della città, sul rapporto fra medici e politici, sulle zone rosse e l'autocertificazione, ma contemporaneamente anche sui provvedimenti presi dai provveditori alla sanità che parlano della necessità della solidarietà, delle questioni dei ricchi e dei poveri, dei ristori durante il contagio, ma anche dopo. E sul dopo un aspetto che ci è parso di particolare interesse è quello che i provveditori alla sanità hanno espresso con chiarezza la volontà di ripopolare Venezia che aveva perso ben il 30% della sua popolazione, dove il 30% della sua popolazione significava 50.000 abitanti, vale a dire gli abitanti di Venezia oggi. Lascio questi temi tutti ai nostri interlocutori di oggi e darei subito la parola a tutti, uno per volta, con l'accordo che ci parleranno all'incirca 10-15 minuti ciascuno, che poi invece teniamo il dibattito, le domande e i vostri interventi per la fine della tornata. Prego tutti di tenere il microfono spento, chiedo a tutti l'accordo sulla possibilità di registrare quello che diremo, che sarà detto oggi, perché così poi lo mettiamo nei nostri canali YouTube, e se non ci sono problemi darei la parola ad Alessandro Marzomagno, che è uno storico di formazione, scrittore, giornalista, che ha molto scritto su Venezia e anche su tanti altri temi, che coprono tra l'altro un lunghissimo arco cronologico. I suoi scritti rivelano, a mio modo di vedere, una grandissima curiosità intellettuale e anche una capacità narrativa davvero singolare. e la parola ad Alessandro. Grazie. Bene, grazie. Allora, intanto buonasera a tutti e a tutti. Grazie Donatella, devo dire che mi imbarazzi perché, insomma, non esageriamo. Io ci tengo a dire che, sì, hai ricordato che sono un antico laureato in storia di Gaffoscari, e ci tengo, però, insomma, dico sempre che sono un giornalista e continuo a fare giornalista anche scrivendo di storia, e in effetti poi questo libro di cui parliamo questa sera è quanto mai giornalistico, sia perché è un racconto in presa diretta di quello che accadeva a Venezia nel 1576, sia perché poi ci ricorda la sorprendente, come hai già sottolineato, la sorprendente attualità di quanto accadeva allora rispetto a quello che accade oggi. Beh, dunque, intanto siamo in anni molto importanti per Venezia, no? Gli anni 70 del 500 sono gli anni che si aprono nel 1571 con la battaglia di Lepanto, quindi con questa clamorosa vittoria navale dei collegati cristiani contro la flotta ottomana, una vittoria la cui eco si ripercuote per tutta l'Europa cristiana, che poi sarà quasi totalmente inutile, ma insomma al momento ancora non lo sapevano, e quindi poi ci sono beati di questo avvenimento, che comunque al di là poi del fatto che Cipro comunque sarà perduta, ma ha segnato la sconfitta e la presa d'atto che anche gli ottomani potevano essere battuti, che non erano una potenza imbattibile. E poi nel 1574, beh, c'è intanto un'acqua alta di grande entità, no? Io appartengo alla generazione in cui chiamavamo quella del 4 novembre 1966, la chiamavamo alluvione, adesso invece si chiama acqua grande, però insomma siamo su quella portata lì, ecco, un'altra acqua alta epocale, e poi c'è stata nell'estate del 1574 la visita a Venezia, la sosta a Venezia di Enrico III di Valois, cioè il re di Polonia che nel prendere possesso del trono di Francia, e poi è il famoso Enrico di Parigi, val bene una messa, no? Ecco, in questo percorso che lo porta a prendere possesso del trono di Francia, si ferma a Venezia nel luglio del 1574 e succedono un sacco di cose. Insomma, questa è una delle visite che rimarranno maggiormente, io forse anche direi quella che è più ricordata, perché l'altra è quella di Alessandro III, ma insomma i cronisti erano più succinti al tempo, e quindi insomma per dire in questi anni succedono un sacco di cose e poi arriva la peste. E come detto, appunto, una peste che ha delle conseguenze terrificanti sulla popolazione di Venezia, e qua ci tengo anche a... Cioè è interessante dire che quando questo libro è stato stampatiato lo mostriamo, eccolo qua, è un libro in formato piccolo, i formati piccoli, i libri piccoli dal 1501 in poi portano bene, no? Da quando Aldo Manuzzi ha cominciato a usarli per stampare anche testi di lettura. E in questo libro c'è scritto che le vittime della peste sono state 50.726, e nel momento di andare in stampa gli abitanti di Venezia erano 51.199. Oggi però siamo scesi sotto i 51.000, quindi siamo a 50.900, non mi ricordo esattamente quanti, quindi siamo a una cifra davvero uguale a quella dei morti di peste. Oggi a Venezia vivono tante persone, quante ne sono morte nel 1576 a causa della peste. Beh, insomma, è una cifra che secondo me da far riflettere. Ecco. L'altra cosa che poi cade sotto gli occhi di tutti leggendo questo libro, che è molto piacevole, devo dire davvero è anche divertente in certi aspetti, succedono anche cose divertenti, che poi magari sono tragiche, perché si parla sempre di morti, ma insomma dopo 500 anni possiamo anche dire che sono divertenti. Ma è la quantità di richiami all'attualità che ci sono, perché sì, certo, grosso modo sappiamo tutti che c'erano le chiusure, quindi le quarantene, tra l'altro la pratica della quarantena è stata inventata per la prima volta a Ragusa, a Diana Dubrovnik, ma poi attuata su larga scala a Venezia. E quindi sappiamo, ma vedete la quantità di biglietti che io ho messo dentro, ecco, sono tutte cose che richiamano l'attualità. E quindi farei una carrellata così, tanto per dare un'idea dei contenuti, e quindi troviamo i ristori, no? Grandissima quantità di danari si veniva a spendere del pubblico, ne però era, ne però era, se non picciolo ristoro, alle povere persone. E anche qui, no? Sì, sì, c'erano i ristori, ma non bastavano. Tema che mi sembra quanto mai attuale. C'erano i negazionisti e a un certo punto c'era un personaggio che gira per Venezia andando nelle case di quelli che erano stati chiusi dentro dicendo, fratelli, uscite, uscite fuori, che i signori vi hanno liberato perché Dio grazia non vi è più peste. Naturalmente la peste c'era ancora e poi quelli che sono usciti ne hanno pagato le conseguenze, però esattamente come oggi, no? C'è stato l'altro ieri a Conegliano un raduno con mille persone senza mascherine perché sostengono che il virus non c'è oppure che non ha questa virulenza. Dopodiché l'arrivo del virus oggi Scusate, io dico virus ma in realtà la peste non è un virus sia ben chiaro la peste è una malattia batterica e questo è una è portata da una pulce che trasmette il batterio delle Iersinia pestis ecco ma dico virus mi viene la gaffa ovviamente riguardo all'attualizzazione comunque la malattia quindi cerco di non sbagliare più la malattia è arrivata portata dall'esterno il virus attuale è arrivato dalla Cina e invece la peste del 1576 è arrivata dalla Val Sugana e quindi da un Trentino più vicino in questo caso da un Trentino che aveva aveva preso poi era arrivato a Venezia aveva portato il contagio abbiamo e questo devo dire che è molto divertente i virologi che oggi ci raccontano un sacco di cose e al tempo invece erano stati interpellati i due medici i due medici più importanti che ci fossero all'Università di Padova Mercuriale e Capo di Vacca che non avevano capito un tubo e perché sono arrivati hanno esaminato i malati e gli effetti della malattia sentenziando no 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 assolutamente non è peste tranquilli tutti non c'è problema invece poi ci sono sbagliati di grosso c'è da dire che poi sono tornati a Padova hanno continuato a insegnare a Padova senza senza grosse conseguenze sulla loro sulla loro carriera accademica vedremo cosa succederà dei virologi attuali e di tutto quello che stanno dicendo visto che stanno dicendo tutto il contrario di tutto quindi vedremo un po' cosa succede ci sono ancora il tema dei ristori e come oggi i dipendenti statali scusate i dipendenti statali alla fine hanno continuato a percepire lo stipendio e quindi per fortuna non ci stanno rimettendo come invece chi ha attività improprio beh lo stesso è accaduto anche allora perché i dipendenti dell'arsenale veniva pagato lo stipendio anche se stavano a casa e quindi gli arsenalotti erano diciamo sicuramente più tranquilli rispetto invece a chi aveva attività impropria o anche agli stessi mercanti che comunque probabilmente avevano fino in cascina come si dice oggi ma insomma ci hanno rimesso di più e poi abbiamo le le terapie intensive i reparti di ricovero il lazaretto vecchio e il lazaretto e il lazaretto nuovo il lazaretto vecchio erano nel lazaretto vecchio erano confinati i malati con segni evidenti del contagio e di peste nel lazaretto nel lazaretto nuovo invece stavano le persone isolate in quarantena e il e quindi al lazaretto vecchio si moriva si moriva e come e insomma le condizioni siamo pur sempre alla fine del cinquecento le condizioni erano diverse da quelle dei reparti ospedalieri che siamo abituati oggi che sono piuttosto assettici per cui il lazaretto vecchio rassemblava l'inferno dove da ogni lato usciva puzzore ed insopportabile effettore udivasi del continuo gemere e sospirare e si vedevano da tutte le ore nuvoli di fumo stendersi in aree largamente per la brusciare dei corpi ecco queste sono questa citazione che ho fatto adesso e quelle precedenti sono delle relazioni che questo Rocco Benedetti il notaio poteva ci ha lasciato e ce ne sono due copie una a Venezia e una a Verona che si sono conservate erano già conosciute ma appunto sono state utilizzate e in questo libro poi sono state incrociate anche con i provvedimenti che hanno assunto le varie magistrature veneziane nel periodo e quindi c'è l'incrocio della relazione del notaio e con le relazioni allegate ai provvedimenti che venivano presi dalle magistrature veneziane e ovviamente con un buon riscontro il notaio poteva girare liberamente perché andava a rogare testamenti e quindi aveva libertà di movimento anche all'interno di Venezia e quando adesso poi ci arriviamo poi si è creata una vera zona rossa con i quartieri isolati e comunque stavo dicendo no le terapie intensive dove la gente moriva invece i reparti dove la malattia non era in uno stadio avanzato e quindi al lazzareto nuovo tra dentro e fuori nelle barche che parevano un'armata si trovavano alcuna volta ben 10.000 persone quindi decine di migliaia di persone che erano rifugiate che erano costrette a stare in in quest'anno l'isola dell'Azzareto nuovo dopodiché abbiamo problemi e come abbiamo avuto e abbiamo problemi di personale sanitario di medici e di infermieri che non bastavano adesso insomma in questo periodo è un po' diverso ma se tutti vi ricorderete tutti le vicende per esempio dei nuovi reparti di un anno fa di terapia intensiva dell'ospedale della Fiera di Milano che sono stati edificati di sprombattuto ma poi c'era un problema perché non 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 c'era sufficiente personale sanitario per per poterli presidiare per poterli utilizzare e nel 1576 invece non c'è una carenza di monatti di pizziche morti che quindi non riescono a andare a prendere a prendere a prelevare i morti dalle case con insomma ovviamente oggi possiamo dirlo allora si lamentavano del puzzore ma oggi possiamo dirlo che questo era un era un un sistema per che il contagio continuasse a diffondersi per cui avevano preso tolto dalle carceri e dalle e dalle galere nel senso di navi di navi di navi militari avevano tolto i forzati e li avevano costretti a fare a fare i monatti a fare i pizzica morti ma poi insomma a loro volta morivano per cui non è che proprio la cosa funzionasse in maniera eccelsa poi abbiamo le frontiere chiuse e Milano che bandisce e che impedisce ai sudditi provenienti da Venezia Murano Mestre o altri luoghi circonvicini di essa città né con bolletta o senza bolletta né con roba o senza roba e ardisca di entrare in questo stato o dominio di Milano cioè frontiere chiuse e questo invece è un provvedimento che è stato che è riprodotto e appunto è stato preso dal dal Ducato di Milano per cui viene a sua volta da Milano abbiamo abbiamo le fake news abbiamo gli rimedi miracolosi i medici che arrivano i medici o presunti tali che arrivano e portano i rimedi che fanno guarire dalla malattia come per esempio Annibale Giroldi che arriva da Brescia da Gedi vicino a Brescia con un gran apparato di bozze allambicchie eccetera pieni di liquidi e liquori però in pochi giorni muore pure lui perché evidentemente questi rimedi non erano poi così non funzionavano così tanto bene dicevo che c'è il distanziamento sociale c'è quindi l'obbligo di rimanere a casa e la istituzione di zone rosse a un certo punto siccome si constata che nei sestieri di Canaregio no anzi quelli di qua di Dorsoduro San Polo e Santa Croce il contagio è minore rispetto ai sestieri di ho detto Canaregio no ho sbagliato Dorsoduro San Polo e Santa Croce il contagio è minore rispetto a Canaregio San Marco e Castello e per cui viene chiuso il ponte di Rialto con guardie in cima al ponte e anche due unità militari del Consiglio di Dieci che devono controllare che non vi sia passaggio tra una zona e l'altra della città e salvo gli autorizzati appunto tra cui il notaio Rocco Benedetti che invece poteva andare da una parte all'altra i rimedi e questo l'ho trovata fantastico i disinfestatori dei grigioni che sono 12 persone che arrivano dai grigioni i grigioni anche se ne abbiamo perso abbastanza la memoria ma avevano delle relazioni molto intense con Venezia Venezia poi tra l'altro viveva stabilmente una comunità di grigionesi ebbene questi grigionesi andavano in giro a disinfettare le case cosa facevano bruciavano delle cose che insomma erano delle ricette segrete non volevano dirlo ma insomma facevano un gran fumo e questo fumo serviva a cosa in effetti sono essi stessi a descriverlo perché scappano i topi ovviamente non sapevano che la peste fosse portata dalle pulci ospitate dai ratti ma questo fatto poi che questo enorme fumo ci mettevano dentro anche pece cosa che doveva essere una cosa diremmo pestilenziale comunque faceva scappare i rati e quindi allontanava il contagio questo rimedio che in teoria assolutamente inutile aveva degli effetti pratici positivi ecco un'altra cosa che facevano era quello di disinfettare insomma di spurgare i capi di abbigliamento e la biancheria con una parola che al tempo si usava ma appunto oggi invece è meglio non dire lasciando lasciando in acqua nelle gabbie che venivano tipo quelle che oggi si usano per le moiche riempendole di capi di abbigliamento lasciando nell'acqua di mare effettivamente anche questo rimedio oggi possiamo dire che poteva essere efficace perché le pulci contenute nei capi di abbigliamento morivano e poi alla fine per concludere con una nota positiva che questa ancora ai nostri tempi non è arrivata ma ci auspichiamo che arrivi quanto prima il contagio è finito e si sono cominciate dappertutto ad aprire le botteghe gente senza numero da ogni canto comparisse le pratiche dei negozi delle mercanzie delle mercantie tornano in piedi e faransi con l'aiuto di Dio più faccende che mai e questo è un auspicio che visto le tante similitudini tra la la pestilenza nel 1576 e la pandemia dei nostri giorni è un auspicio che si arrivi presto a questo stadio grazie a tutti grazie a tutti grazie molto ad Alessandro e per ragioni di tempo darei subito la parola a Francesca Pazzaglia che è professoressa di psicologia ambientale all'università di Padova e che ha svolto ricerche e pubblicato molto libri articoli sulla cognizione dello spazio che mi pare un tema per noi assolutamente pertinente e sulle relazioni fra ambiente naturale architettura e benessere e a lei la parola buonasera a tutti grazie ringrazio veramente gli organizzatori per avermi dato la possibilità di intervenire a questo incontro che reputo molto interessante molto importante e soprattutto per avermi dato la possibilità di leggere questo piccolo libro che ho trovato veramente molto molto bello lo trovo un gioiellino proprio per gli aspetti che anche sono stati appena delineati perché proprio per la situazione che stiamo vivendo direi che questo libro porta a riflettere su moltissime così moltissime esperienze e trovare anche come è stato visto finora queste comunanze queste affinità tra le reazioni che hanno avuto appunto i veneziani nel 1500 e molte delle delle iniziative e anche delle reazioni che stiamo vivendo e che abbiamo visto nei nostri giorni non mi stupisce questa diciamo questa affinità intanto perché ovviamente in entrambi i casi si faceva si faceva fronte a un'epidemia nel nostro caso addirittura una pandemia però al di là di quello credo che ci sia proprio cioè questa somiglianza di reazioni sia proprio dovuta al fatto che noi esseri umani con il nostro sistema cognitivo con il nostro sistema affettivo che è sempre quello cioè uguale a quello che avevano nel nel 500 al di là di quelle che possono essere la differenza nelle conoscenze conoscenze scientifiche ad esempio però il nostro sistema di reazione in una situazione di forte stress in una situazione che dopo insomma definirò un vero e proprio trauma probabilmente appunto queste reazioni restano per buona parte molto simili quindi ad esempio non so il negare il male quindi il negare che veramente ci sia un problema è una prima reazione è una nostra reazione psicologica abbastanza naturale e frequente di fronte ad una difficoltà certo non è da un punto di vista diciamo funzionale quella migliore però noi reagiamo anche anche in questo modo il trovare delle dei rimedi che possono essere appunto miracolosi quindi apparentemente che possono risolvere in toto il problema e e che non sono validati neanche all'epoca erano in qualche modo validati da una conoscenza scientifica cioè anche questa può essere una reazione perché perché noi tendenzialmente vogliamo semplificare la realtà in cui viviamo e vogliamo trovare dei rimedi che sono semplici ci piacerebbe trovare dei rimedi semplici e immediati anche in situazioni che sono che sono complesse quindi insomma questi meccanismi mentre leggevo il libro mi hanno colpito moltissimo sono contenta però di non aver deciso di focalizzarmi su questi perché proprio chi mi ha preceduto invece ha delineato in maniera molto chiara e anche quasi visiva diciamo tutti questi aspetti vorrei però così solo aggiungere due cose che mi sono venute in mente mentre il relatore precedente così parlava e sempre di affinità ad esempio un aspetto che mi ha colpito leggendo il libro è che c'era inizialmente all'inizio si dice che si cercava di celare determinati aspetti troppo crudi per non sconvolgere troppo l'opinione pubblica e che quindi all'inizio perlomeno quando poi la situazione degenerata non era più possibile ma il portare via i cadavere i cadaveri il bruciare le case e così via avveniva di notte probabilmente avveniva di notte da una parte per non suscitare reazioni anche violente però dall'altra insomma questa idea un po' di celare gli aspetti più appunto più crudi e mentre leggevo mi sono venute in mente quelle immagini e dei camion carichi di bare che durante la notte appunto sfilavano nelle vie di Bergamo e appunto nel portare i cadaveri e quindi i deceduti a causa di Covid e un altro aspetto che mi aveva colpito leggendo e questo emerge a più riprese nel libro è come la Serenissima cosa che cerchiamo di fare anche noi oggi ha sempre cercato di mediare tra l'arresto dell'epidemia e quindi gli interventi anche forti che ha preso però mi dava l'impressione anche che cercasse di mediare tra questo e degli aspetti economici infatti prima si parlava di questa chiusura questa zona rossa che era stata creata su tre sestieri rispetto agli altri tre però inizialmente si era detto la zona rossa potrà durare sette otto giorni e forse anche di più però poi finiti anzi un pochino prima degli otto giorni tutto questo è stato chiuso perché costava una sorta maggiori ristori immagino al governo della Repubblica e come anche non so inizialmente si emette l'ordinanza che tutte le robe investiti eccetera masserizie delle persone infette dovevano essere bruciate e poi poi invece si arriva al compromesso di non bruciare ma appunto di sanificare attraverso i metodi che sono stati ben illustrati prima quindi insomma delle decisamente delle costanti che derivano proprio da a mio avviso da un nostro modo di ragionare individuale e anche sociale però quello di cui appunto volevo così parlarvi sono essenzialmente le riflessioni che questo libro ha suscitato in me riflessioni che sono come dire hanno origine dalle mie conoscenze di tipo psicologico ma che così vorrei presentare in maniera molto semplice come così delle semplici appunto riflessioni a partire da quella realtà mi sono trovata proprio a cercare di analizzare più in profondità una una realtà che tutti noi stiamo vivendo ormai da più di un anno e nel fare questo partirei prima appunto da un'analisi di alcuni elementi ovviamente perché non c'è nel tempo o nel modo di così di aumentare questa cosa ma un'analisi di alcuni elementi della realtà in cui noi ci troviamo ci siamo trovati ancora ci troviamo vedere tratteggerei anche molto velocemente quelle che secondo me ma non soltanto secondo me sono le conseguenze di questa realtà per arrivare poi a quelli che io chiamo elementi di resilienza e secondo me questi elementi di resilienza ci arrivano proprio direttamente come un insegnamento un messaggio appunto dai veneziani del 1500 allora per quanto riguarda l'analisi della realtà in cui noi ci troviamo una realtà che sentendo anche così semplicemente in giro non soltanto dalla letteratura diciamo di tipo psicologico ma parlando con le persone dall'esperienza anche personale è una realtà che via via sta diventando sempre più pesante così da portare avanti ecco vedendolo da un punto di vista psicologico io non ho esitazioni nel definire appunto il covid-19 tutto quello che ne consegue come un trauma un forte trauma e si tratta di un trauma individuale ma appunto anche collettivo e se voi vedete ad esempio il sito della OMS la sezione europea dell'organizzazione mondiale della sanità appunto anche lì si riconosce che il covid-19 produce ha prodotto un forte stress di tipo psicologico e che questo stress avrà determina ha e avrà anche determinate conseguenze che poi vedremo ma io ho parlato proprio di trauma perché trauma perché diciamo nel linguaggio specifico trauma fa pensare proprio a un passaggio da un prima a un dopo e il covid è stato proprio questo e lo sarà anche negli anni futuri cioè io penso che per molti anni anzi probabilmente per molti decenni noi continueremo nei nostri discorsi ma anche nei nostri pensieri a riferirci al prima e il dopo il covid e al dopo covid e quindi il covid segna come un punto di ancoraggio della della nostra storia in questo perché della nostra storia collettiva ma anche probabilmente anzi sicuramente della nostra storia individuale noi abbiamo una memoria autobiografica quindi il ricordo di molte delle nostre esperienze passate e questa memoria autobiografica in qualche modo costruisce il nostro senso di identità ecco il covid ha messo un segnale profondo in questa memoria autobiografica perché perché la memoria autobiografica è appunto organizzata in 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 periodi individualmente non so io posso dire il periodo in cui ero all'università prima che nascesse mio figlio e dopo la nascita di mio figlio il matrimonio cioè noi organizziamo la nostra memoria autobiografica in periodi e adesso dentro questa nostra memoria autobiografica ci sarà per molto tempo io immagino nell'arco di tutta la vita di una persona ci sarà questa esperienza del covid quello però che contraddistingue questa esperienza da tutte le altre nostre esperienze autobiografiche è che è veramente un'esperienza collettiva ed è unica credo da questo punto di vista quindi costruisce una memoria autobiografica che è una memoria autobiografica condivisa condivisa non con un singolo gruppo ma condivisa a livello mondiale uno potrebbe dire ci sono state altre esperienze analoghe nella storia pensiamo non so le due guerre mondiali pensiamo all'11 settembre però il covid è veramente eccezionale da questo punto di vista perché perché ha coinvolto tutto il mondo tutto il mondo cioè non soltanto la società occidentale non soltanto alcuni paesi e soprattutto ci ha coinvolti in prima persona cioè fisicamente ha cambiato proprio la nostra vita e vedremo anche il nostro modo di comportarci quindi veramente un'esperienza unica e un trauma in questo senso di momento di passaggio tra il prima e il dopo una seconda accezione del trauma è quella di un momento di rottura lo troviamo anche nel libro cioè si passa e già nelle prime pagine del libro si intuisce come i veneziani passano da quella che può essere definita una situazione di cosmos quindi una realtà ben ordinata ha invece una situazione di caos in cui via via mano a mano che si va avanti nel libro sempre più si parla appunto con riferimento al lazaretto vecchio eccetera si parla proprio di inferno quindi il caos emerge proprio questa idea di caos totale quindi che cos'è il cosmos il cosmos è proprio il mondo solito di routine all'interno del quale noi ci muoviamo noi siamo abituati o comunque abbiamo l'illusione di vivere in un mondo che è un mondo ordinato noi in qualche modo ci sentiamo rassicurati perché viviamo all'interno di un mondo che è prevedibile cioè io so che la mattina mi alzo uno porta i propri figli a scuola poi va al lavoro e quindi c'è questa routine che a volte può essere anche noiosa ma che è un forte elemento di sicurezza e di stabilità ecco il covid ha rotto completamente tutte queste routine perché all'improvviso il lavoro non era più andare al lavoro ma era lavorare a casa improvvisamente il figlio non era più da portare a scuola ma doveva studiare all'interno della casa ci sono state delle riunioni inaspettate i nuclei familiari che ne so i figli universitari sono di nuovo ritornati a casa insomma una routine assolutamente assodata è andata in tempi brevissimi lo sappiamo tutti è andata proprio frantumata pensate anche semplicemente cioè delle cose che ci possono sembrare addirittura banali incontro una persona e poi quando la saluto a un amico l'abbraccio la bacio do la mano ad una persona quando me la presentano cioè aspetti che erano assolutamente come dire normali nella nostra vita di tutti i giorni invece sono sono cambiati ed è cambiato proprio anche all'interno delle nostre abitazioni e all'interno delle nostre relazioni chi era abituato ad andare a trovare i propri genitori anziani a casa a un certo punto non ha più potuto farlo e chi aveva dei genitori in una residenza per anziani a un certo punto si è trovato nell'impossibilità di vedere i propri cari cioè tutto questo adesso lo stiamo vivendo ancora non l'abbiamo metabolizzato ma non può non avere delle conseguenze e anche appunto io mi occupo di psicologia ambientale tutti questi aspetti molto legati all'ambiente che troviamo anche costantemente nel libro e quindi il lazzaretto i due lazzaretti cioè trovare un ambiente dove portare le persone infette il costruire delle case le famose case prefabbricate che poi non sono state molto utilizzate dove potessero ritornare le persone o allontanare le persone che erano state a contatto con gli infetti oppure ritornare quelli che erano guariti cioè l'ambiente ha avuto un'importanza fondamentale nella Venezia della peste ma anche nel nostro mondo cioè pensate come è cambiata il modo di vivere la nostra residenza l'abitazione la casa che improvvisamente è diventata dicevo prima il luogo del lavoro il luogo dello studio un luogo talvolta sovraffollato noi ad esempio abbiamo condotto uno studio intervistando ovviamente online quasi duemila settecento persone durante il periodo del lockdown e abbiamo posto appunto tutta una serie di domande e alcune domande vertevano proprio sulla distanza interpersonale che è un aspetto molto profondo nostro di interazione con gli altri e di interazione con il mondo fisico esterno e la distanza interpersonale è stata studiata già dagli anni settanta e che cosa si era trovato che ad esempio noi permettiamo agli altri di avvicinarci ad una distanza che è inferiore ai 60 centimetri solo con le persone veramente intime e con gli amici quindi persone che comunque ci sono familiari la distanza va dai 60 ai 120 centimetri e poi superiore ai 120 centimetri è con gli estranei o rapporti formali di lavoro e così via ecco pensate come il mantenimento della distanza sociale ha sconvolto anche questa nostra abitudine per cui noi ci siamo siamo stati costretti ad adottare anche con persone a noi familiari e una distanza che invece era quella che di solito avevamo con le persone con cui c'erano dei rapporti proprio formali ad esempio rapporti di lavoro ecco questo non è una cosa da poco perché tutti questi aspetti sono messi in atto in maniera automatica quindi noi abbiamo dovuto cambiare veramente degli automatismi degli automatismi molto consolidati e in questa nostra ricerca siamo riusciti adesso non sto a spiegare troppo la metodologia ma a vedere qual era la distanza di comfort e siamo riusciti a confrontarla con quella precedente al periodo del covid ecco la distanza di comfort che le persone appunto ci indicavano era praticamente raddoppiata rispetto al periodo pre-covid ecco la domanda che mi sono fatta è quando torneremo quando usciremo da questa situazione per quanto tempo ancora resteremo con una parte della nostra mente che ci indica che ci attiva in maniera inconsapevole ma si dice ma devi stare più lontano devi stare più lontano cioè capite non è una cosa come dire facile da superare un altro aspetto che riguarda appunto il rapporto con l'ambiente vi dicevo l'abitazione ecco abbiamo chiesto alle persone di dirci quanti ambienti aveva la casa in cui vivevano quante persone ci stavano vivendo in quel periodo quindi avevamo un dato oggettivo di affollamento dell'abitazione e poi anche abbiamo dei questionari relativamente alla soddisfazione soggettiva sugli aspetti spaziali dell'abitazione e anche dei questionari sullo stress che cosa abbiamo trovato che la situazione oggettiva in ore o maggiore affollamento finiva per cioè era predittiva dei fattori di stress che la persona sperimentava in quel momento quindi capite come un aspetto legato all'ambiente possa diventare protettivo o invece al contrario possa alimentare la situazione di stress che le persone provavano ultimissimo aspetto che così in un'altra ricerca è stato evidenziato in questo periodo le persone sempre di più sentono il bisogno di stare in ambienti naturali e noi sapevamo già da diversi decenni che la natura ha un aspetto cioè è un fattore di nuovo protettivo nei confronti dello stress e non è un caso che appunto in un periodo così difficile si senta il bisogno proprio di rientrare in contatto con il mondo naturale allora detto questo abbiamo vissuto stiamo vivendo un trauma quali saranno le conseguenze le conseguenze non le dico io le trovate nella letteratura nelle dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità le conseguenze a livello psicologico saranno diverse innanzitutto a livello di apprendimento cioè pensate soprattutto nella scuola primaria e secondaria di primo grado gli effetti delle teri della didattica a distanza in questo periodo ma poi anche stanno emergendo ma questo si sente anche nei media disturbi comportamentali bambini adolescenti disturbi del sonno ad esempio ci sono delle ricerche proprio che mostrano che ci sono disturbi del sonno sono aumentati è aumentato il consumo degli ansiolitici se voi andate nel sito dell'AIFA quindi l'agenzia italiana del farmaco ci sono tutti i dati e dal 2019 al 2020 il consumo di ansiolitici è aumentato e quindi questo è un indice insomma che c'è una qualche situazione di disagio quindi un po' una situazione che non è diciamo positiva ma qual è un po' l'insegnamento che ne ho tratto dal libro e poi chiudo alla fine veramente il messaggio che se ne ricava infatti prima si diceva in alcune parti addirittura fa quasi cioè alcuni episodi sono divertenti ma alla fine c'è proprio il vieto fine il vieto fine nel senso che almeno come viene raccontato ma anche poi vedendo i dati storici la Serenissima è riuscita a superare a superare questo momento e quali sono gli elementi di resilienza cioè come ha potuto una città che appunto si diceva prima ha perso un terzo dei suoi abitanti a riprendere i commerci a riprendere le verrazioni a superare la paura e il trauma che probabilmente avevano provato e quindi quali potevano essere i fattori e qui a me ha colpito moltissimo e quindi lo leggo il discorso finale del Doge cioè quando ormai l'epidemia era finita scusate accendo la luce e non ci vedo il Doge fa un discorso cioè viene riportato in maniera diretta a quello che il Doge dice e dice che questa città essere stata come una nave lungamente agitata e combattuta da grande tempesta di mare e mi fermo dopo continuo però volevo farvi notare questo questa metafora l'utilizzo di questa metafora la città è una nave una nave in un mare in tempesta in realtà e questo probabilmente diceva molto ai veneziani i veneziani erano un popolo che probabilmente era decisamente resiliente perché perché era un popolo abituato a navigare nel mare a navigare in posti spesso sconosciuti a dover affrontare delle difficoltà e non a non arrendersi a non compiangersi ma avevano mostrato proprio questa resilienza e questa capacità di superare queste difficoltà dovuta probabilmente dal fatto che accettavano di vivere in una realtà che era una realtà precaria e dovremmo abituarci anche noi a questo pensiero il vivere bene in una realtà che può essere una realtà precaria secondo aspetto andando avanti dice che tutto questo è appunto è stata preservata dopo il Dio da intendimenti da intendenti e da curati inocchieri che sono stati i provveditori sopra provveditori alla sanità e gli altri buoni ministri ecco anche questo secondo me è un elemento di residenza perché è un elemento di residenza perché DOGE sostiene ce l'abbiamo fatta ma come ce l'abbiamo fatta grazie al nostro operato cioè quello appunto dei sovrintendenti eccetera però in qualche modo sta ad indicare che è la parte umana di quella società che è riuscita a superare e quindi leggendola dal punto di vista psicologico qui c'è proprio il concetto di locus of control cioè può accadere qualsiasi cosa ma se io sento di aver mantenuto il controllo della situazione questo mi aiuta mi ha aiutato a superare e mi aiuta poi anche a riprendermi e poi conclude dicendo soggiunse e poi dimostrando quanto si doveva continuamente ringraziare il Signor Dio che aveva sempre con gli occhi della sua immensa pietà rimirato questa Repubblica nei giorni delle sue più gravi tribolazioni cioè il fatto che Dio avesse rimirato questa Repubblica e questo ritorna più volte nel libro che cosa vuol dire è che questa Repubblica aveva qualcosa di valore aveva qualcosa di eccezionale cioè Dio la rimirava pur in queste difficoltà cioè la proteggeva ma perché perché era come dire aveva un valore in questo quindi meritava questa protezione e quindi un alto senso di autostima per cui fino adesso abbiamo visto un locus of control decisamente interno una capacità di reggere l'incertezza un senso di autostima che non era semplicemente individuale ma che era un senso di autostima collettivo e infatti quello che viene immediatamente dopo è che dice che bisognava trovare luogo conveniente a edificare il Tempio quindi appunto la Chiesa della Giudecca che in questo senso che cosa costituisce costituisce l'emblema il simbolo della popolazione cioè intorno a quel Tempio veramente si coagula si riprende e riprende forza tutta quanta questa popolazione provata ecco credo che siano un pochino questi gli elementi che noi dovremmo trovare anche oggi molte grazie Francesca che ha aggiunto a mio modo di vedere un punto di vista di grande interesse quello di una psicologa sensibile allo spazio urbano e che quindi entra assolutamente nel merito delle questioni che ci stanno a cuore qui oggi darei subito la parola a Francesco Erbani che molti di voi conoscono credo come giornalista della pagina culturale di Repubblica ma che è anche uno scrittore in materia di città di paesaggio e di patrimonio culturale e in particolare ha scritto uno dei libri che prima ha fatto vedere Elena all'inizio della nostra chiacchierata che a mio modo di vedere è particolarmente bello e suggerisco a tutti di leggere che si chiama Non è triste Venezia è del 2018 ha scritto molto anche su Venezia ha scritto un altro libro che vorrei ricordare qui che è Viaggio in un paese diverso nel 2019 recentemente parlando di città che hanno patito la colonizzazione del turismo Francesco Erbani ha sottolineato una questione che per noi che ci occupiamo di Rialto a me pare di grandissima importanza e cioè la funzione del patrimonio storico anche come prezioso servizio pubblico non è soltanto l'insieme delle botteghe è il patrimonio che Rialto rappresenta che è un patrimonio architettonico un patrimonio monumentale un patrimonio di saperi antichi di saper fare di persone oltre che di pietre e da questo punto di vista mi sembra una questione assolutamente pertinente con quello che di cui ci occupiamo come associazione progetto Rialto a questo aggiungo tutta la questione amplissima di cui si è occupato recentemente che è la questione dei musei che ci permette anche di tornare ai rapporti stretti con le gallerie dell'Accademia ma più in senso ampio con la città di Venezia che in qualche misura è piena di musei ed è essa stessa un museo a cielo aperto un insieme di musei a cielo aperto ma è anche qualcos'altro e quindi lascio la parola a Francesco Erbani e lo ringrazio tantissimo di essere con noi sono io che ringrazio dell'invito un'unica precisazione non sono più a Repubblica da quasi due anni è solo un dato di cronaca dunque io vorrei riprendere uno degli spunti che suggeriva prima Francesca Pazzaglia cioè quello la pandemia come un punto di cesura ecco un punto di cesura fra un prima e un dopo e estendere questa diciamo questa dimensione a quella della appunto sì della città perché io credo che la pandemia sia assolutamente una un'occasione imperdibile per ripensare se stessa la città d'arte ecco per ripensare se stessa soprattutto per non commettere un errore che mi pare sempre in agguato costantemente in agguato e cioè quello di considerare la pandemia come un accidente ecco passato il quale tutto deve rientrare e tornare come era come era prima questo mi pare un errore che coinvolge diversi soggetti intanto una precisazione sulla sulla città d'arte io penso che ci sia un complemento di specificazione d'arte però metterei l'accento sul soggetto cioè la città le città d'arte sono in primo luogo città quindi hanno sono dotate di una serie di funzioni fra le quali quella di essere il luogo in cui viene custodito un patrimonio d'arte d'architettura di saperi di storia eccetera per le città d'arte comunque la procedura diciamo per ripensare per ripensare se stesse io credo che debba partire dalla messa in discussione della relazione stretta fra il patrimonio che si custodisce e il turismo una relazione talmente stretta che in casi in casi estremi arriva anche a considerare il turismo come la ragion d'essere di quel patrimonio cioè ecco ci vedo questa questa logica dietro la decisione che secondo me è profondamente sbagliata è stata profondamente sbagliata di tener chiusi i musei i musei temo che si sia deciso di tenerli chiusi non tanto per perché la loro frequentazione poteva essere occasione di assembramento e quindi poteva essere un ambiente ideale per la trasmissione per la trasmissione del virus sappiamo benissimo come sono fatti i musei italiani sappiamo benissimo che tranne eccezioni che si contano sulle dita di una mano i musei non soffrono di assembramento i musei temo siano stati tenuti chiusi perché senza turisti si staccano meno biglietti e quindi è più costoso tenerli aperti detta in maniera un po' brutale quindi l'idea che il museo sia fondamentalmente un costo che tenere aperto un museo significa sopportare dei costi ecco e invece io credo che una diversa organizzazione del museo degli ingressi eccetera della frequentazione di sale eccetera avrebbe potuto consentire credo l'apertura non riesco a immaginare quale veicolo di assembramento per esempio può essere l'area archeologica di Pompei che si estende su 55 ettari e quasi appunto sono le dimensioni di una piccola di una piccola città quindi diciamo gli accorgimenti si potevano trovare però appunto si è preferito un'altra un'altra soluzione che è quella appunto di tenerli chiusi perché costava costava tenerli tenerli aperti a questo punto ecco io proverei a ribaltare questa decisione sbagliata in una occasione invece ecco i musei possono assolvere un compito culturalmente politicamente innovativo cioè quello di instaurare per esempio una relazione più stretta con i pubblici più prossimi vengono meno e verranno meno anche nel futuro credo soltanto con fatica e soltanto lentamente riprenderà la grande industria del turismo a livello internazionale quindi i musei hanno l'occasione per recuperare una delle funzioni credo cruciali cioè quella di avvicinare il pubblico più prossimo il pubblico della città il pubblico del quartiere cioè recuperare quel rapporto stretto con il territorio dal quale molto i musei prendono e al quale molto debbono restituire e quindi diciamo svolgere quella funzione che prima Donatella Calabi ricordava di servizio pubblico che poi è un precetto del codice dei beni culturali il patrimonio culturale è considerato un servizio pubblico i musei possono essere il luogo dove ci si sente cittadini dove si forma il gusto dove si mettono alla prova le proprie capacità intellettive le si migliora poi pensiamo per esempio alla funzione che i musei possono svolgere come mediatori culturali nei confronti dei nuovi cittadini che che popolano le nostre le nostre città immigrati di prima di seconda generazione diciamo sono molti i musei per fortuna in italia che 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 già praticano queste sperimentazioni con penso per esempio a tutte le le attività che si svolgono con bambini con anziani con i detenuti ecco queste sono secondo me alcune delle delle funzioni che i musei possono recuperare oppure incrementare perché già lo fanno dal momento che non saranno i biglietti staccati per i turisti sui quali molto si è puntato negli ultimi negli ultimi anni perché era così che si misuravano le performance dei musei ecco in assenza di questo diciamo in genere poi il patrimonio il patrimonio culturale può recuperare delle funzioni delle funzioni diverse e dai musei poi si passa alle città alle città appunto Venezia è stato detto con molta chiarezza quanto la Venezia di questo tardo 500 abbia patito un'epidemia che la apparenta alla pandemia ecco le città d'arte sono arrivate alla pandemia già abbastanza stremate ecco già in condizioni molto molto appesantite Venezia da questo punto di vista è un caso estremo prima del covid c'è stata l'acqua alta del novembre del 2019 ecco in entrambe le circostanze si è capito quanto affidarsi integralmente ad un'economia turistica fosse un rischio fosse non solo gravissimo dal punto di vista del funzionamento di una città ma fosse fosse una specie di scommessa senza ritorno che poteva dare dei profitti dei profitti a breve ma che poi che poi insomma sarebbe stato difficile poi recuperare il turismo intendiamoci non è appunto non è la peste il turismo ma è patologico se diventa il regolatore di tutte le funzioni di una città regola la residenza regola il commercio e regola anche la possibilità di accedere al patrimonio al patrimonio culturale questo è patologico e questa è l'altra grande decisiva occasione che non bisogna perdere cioè di invertire invertire questa roba Venezia è dicevo è un caso estremo è il caso estremo di una città che ha potuto però misurare drammaticamente quanto quanto è pericoloso consegnarsi mani e piedi all'economia turistica non si può dire che la cosa fosse imprevedibile anzi che non ci fosse stato da tempo in diversi in diversi ambienti della città la preoccupazione che questo potesse accadere l'allarme penso a quello che si diceva anche prima certamente prima della pandemia prendiamo il caso delle città del del Maghreb oppure delle città tunisine o l'Egitto che si erano affidate moltissimo all'economia turistica il terrorismo ha prodotto la crisi una crisi verticale di quella economia e i paesi si sono drammaticamente impoveriti per cui diciamo l'esempio di quanto questa industria pesante perché il turismo internazionale è un'industria pesante noi siamo abituati a pensare all'industria pesante quella siderurgica quella però se facciamo i conti del giro di affari che sta intorno al turismo beh vediamo che è un'industria che macina una quantità enorme di energia però appunto ora molte delle criticità prodotte da questo patologico dimensionamento diciamo dell'economia turistica possono essere anche queste rovesciate di segno sempre però che ci si orienti in questa direzione che in questa direzione si orientino le decisioni politiche a vari livelli prendiamo per esempio la residenza che è una delle questioni sulle quali incide l'economia turistica in termini proprio di rendita immobiliare beh a Venezia solo sulla piattaforma di Airbnb sono attualmente caricate 8400 appartamenti significa 8400 appartamenti su un totale di oltre 40.000 appartamenti nella città insulare che sono vuoti ecco che cosa accadrà di questo resteranno dei vuoti nella città oppure possiamo interrogarci su quanto di questo patrimonio edilizio può essere può essere può tornare sul mercato degli affitti per esempio è chiaro che non è un passaggio automatico cioè non ci si può affidare semplicemente alle leggi del mercato immobiliare ci vuole un intervento pubblico per esempio un intervento pubblico che usi la leva fiscale oppure un intervento pubblico che incentivi l'affitto che dia per esempio garanzie ai proprietari dal punto di vista legale insomma i sistemi per poter orientare questo mercato da parte delle autorità pubbliche ci sono in altri paesi europei sono stati adottati ecco ma chi può riabitare chi può riabitare Venezia questo è un altro dei punti secondo me decisivi è evidente che ci vuole quindi uno stretto una stretta relazione fra le politiche abitative e quelle destinate a creare nuova occupazione ma abbiamo visto che tante cose si possono riattivare nelle città d'arte quindi non solo a Venezia la residenza e l'occupazione per esempio possono attirare giovani ricercatori giovani ci sono questi flussi che girano in Europa e che vengono attratti da altre città europee perché Venezia non può essere un luogo che attrae arte architettura ma non solo lo studio dell'arte e dell'architettura le attività legate all'arte e all'architettura come pure a tanti altri settori penso semplicemente alla biologia marina e all' come dire allo studio e alle analisi degli squilibri lagunari ecco quanto di questo di queste attività possono essere svolte a Venezia Venezia in fondo condensa in sé tutte le grandi questioni ambientali di cui da tempo si discute dai cambiamenti climatici dal rapporto fra il costruito e l'inedificato il rapporto insomma appunto la laguna immaginiamo questo ambiente nel quale la città si è sviluppata che è un ambiente appunto anfibio acqua terra è un luogo che ha che condensa in sé stesso tantissime delle questioni ambientali che ci si pone e che sono al centro di quella espressione transizione ecologica che a me sembra come dire ancora un po' cioè aspetto di vedere come venga come viene come viene come viene articolata il problema non riguarda solo non riguarda solo Venezia ovviamente e non è gestibile soltanto dalla diciamo dal livello locale io vivo a Roma e vedo che cosa si è prodotto nella 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 città storica con i vuoti che si sono creati a causa del turismo che non c'è più a Roma gli appartamenti caricati su Airbnb solo sulla piattaforma di Airbnb sono più di 40.000 e il 75% di questi appartamenti oltre il 75% è tutto nel primo municipio cioè dentro il circuito delle mura aureliane insomma questi vuoti come come pensiamo di io direi più che vuoti userei l'espressione spazi che si liberano il vuoto dà più l'idea di una cosa che sia in abbandono invece lo spazio libero dà l'impressione di qualcosa che si può riattivare che può ritornare ad avere ad avere vitalità ecco noi non sappiamo bene come saranno investiti i 209 miliardi del Next Generation U ma è evidente che dovrebbero servire anche a voltare a pagina nelle politiche per la città questo mi pare in dubbio su vari versanti ora così tanto per tanto per indicarne alcuni la riduzione delle disuguaglianze che sia di reddito sia spaziali che il covid ha reso ancora più grave di prima però possono servire per riportare residenti residenti nei centri storici e non solo residenti benestanti oppure per recuperare spazi a iniziative di interesse pubblico culturali di solidarietà o per nuovi lavori e tutto questo appunto approfittando del fatto che è venuta meno l'appetibilità di tipo turistico alberghiero pezzi di città appunto dicevo si sono si sono liberati e solo parzialmente nel futuro verranno rioccupati da funzioni da funzioni turistiche ecco qui sentiamo veramente un po' il peso dell'abbandono negli ultimi anni di alcune discipline pienamente pubbliche prettamente pubbliche come l'urbanistica ecco ci si è affidati al mercato immobiliare alla rendita immobiliare per decidere la destinazione di pezzi interi di città che invece e quindi si fa si fa come dire fatica a immaginare un grande che un grande contenitore rimasto vuoto in un centro storico possa assolvere a funzioni di interesse pubblico come ospitare alloggi di edilizia popolare giovani che hanno bisogno di spazi per lavori innovativi ma anche attività appunto culturali pensiamo per esempio ai presidi di medicina territoriale che si potrebbero installare in questi in questi luoghi allora ho fatto un po' un libro un libro dei sogni però non so quanto ascolto queste esigenze questi bisogni incontrino a vari livelli della decisione della decisione politica ma mi pare che la strada da intraprendere di fronte ai bisogni che la pandemia ha reso ancora più evidenti mi pare che la strada sia questa e se posso chiudere con un un apprezzamento sentito nei confronti del progetto Rialto io lo trovo una una iniziativa di grande di grande rilievo i mercati sono mi riferisco in particolare ora al mercato di Rialto i mercati sono uno degli indicatori secondo me essenziali del buon funzionamento di un organismo di un organismo urbano sono incentivano il consumo responsabile favoriscono le produzioni locali e poi sono anche un fondamentale luogo di socialità quindi io li frequento molto i mercati rionali li trovo davvero un luogo in cui la dimensione urbana raggiunge dei livelli molto alti e quindi auguri al progetto Rialto ringrazio ringrazio moltissimo Francesco Erbani per il suo libro dei sogni che mi pare assolutamente del quale abbiamo bisogno io credo che sia assolutamente pertinente e importante era proprio quello che io desideravo da lui il suo richiamo alla pandemia come cesura e come occasione io credo che è da questo che dobbiamo partire la ragione stessa per la quale stiamo organizzando queste iniziative lo ringrazio anche per il richiamo al tema dei musei e forse qui abbiamo due esempi di musei virtuosi che forse i cui rappresentanti forse hanno voglia poi dopo nel dibattito di dire qualcosa richiamo che è qui presente Giulio Manieri che rappresenta le gallerie dell'Accademia e Mari Gustalazzari che rappresenta la pinacoteca archivio biblioteca della fondazione Querini forse loro potranno dire qualcosa rispetto al tema che Erbani ha richiamato del rapporto fra musei e territorio circostante l'altra questione le altre questioni su cui Erbani ha fermato la sua attenzione che sono la residenza e il lavoro ci riportano all'ultimo interlocutore di questa sera che è Shaul Bassi Shaul Bassi è professore di letteratura inglese all'Università Ca' Foscari di Venezia e specialista di Shakespeare voi direte ma che c'entra la letteratura inglese e Shakespeare con quello di cui stiamo parlando ebbene invece c'entra moltissimo io non so quanti di voi si ricordino la organizzazione che Shaul Bassi ha fatto del mercante di Venezia di Shakespeare in occasione del cinquecentenario dell'istituzione del Ghetto di Venezia all'interno del Campo di Ghetto Nuovo un'iniziativa di grande spessore nel tentativo di recuperare un episodio fondamentale della storia della storia in generale della storia della letteratura in particolare all'interno dello spazio urbano spazio fisico urbano e riproponendo una serie di temi che avevano a che fare con gli ebrei gli stranieri la presenza nella città e così via non solo ma forse alcuni di voi hanno anche assistito all'organizzazione e riproposizione del processo Shilock all'interno della scuola grande di San Rocco alla presenza di un personaggio che io ricorderò tutta la vita ho trovato veramente straordinario che era la giudice ahimè non è più con noi la giudice della Corte Suprema americana Ruth Bader Gilsburg è stato un episodio dal punto di vista culturale ma dal punto di vista anche delle relazioni internazionali assolutamente importanti e dico questo perché appunto Shaul Bassi è una persona che si occupa moltissimo di rapporti fra Venezia e chiamiamole relazioni internazionali in senso ampio e il tentativo di rivitalizzare Venezia attraverso il lavoro la presenza di ricercatori di ricercatori che vengono da dappertutto dai paesi da molti paesi anche lontani e vicini e che ripropongono appunto la questione del multiculturalismo di Venezia e in qualche modo ci riportano ancora una volta al cosmopolitismo da cui siamo partiti centrando il nostro discorso su Rialto quindi ho detto che è professore a Caffoscari dirige il Center for Digital Humanities and Social Change quindi ancora una volta ritorniamo ai temi appena toccati da Erbani e do la parola a Shaul poi tutte queste questioni torneranno nel dibattito finale ciao grazie buonasera a tutti sarò breve proprio perché mi interessa molto il dibattito e si è fatto tardi io vorrei concentrarmi su due momenti di questo importante e delizioso libretto che mi ha così anche riportato a un momento molto importante della mia vita quando non ricordo esattamente l'anno ma ci fu una stupenda mostra su Venezia alla peste credo alla fine degli anni settanta a Palazzo Ducale e proprio Venezia alla peste è stato un momento straordinario di riflessione sul passato ecco allora io faccio i complimenti ai curatori di questo libretto che ci danno la possibilità come hanno ben mostrato i relatori che hanno parlato prima di me si possa riflettere sul presente partendo dal passato allora a un certo punto si parla del momento in cui viene decretata deliberata l'edificazione della chiesa del redentore viene detto esplicitamente che viene fatto nel momento in cui la peste comincia a toccare i ricchi perché finché morivano i poveri non era tanto così evidentemente grave ma quando si comincia a sfiorare in ceto più ambiente il principe col senato in segno di dover ottenere perdono dal padre eterno per Cristo nostro signore e redentore deliberò di erigergli un tempio che fosse nominato del redentore nel quale savesse a spendere 10.000 ducati del pubblico allora la osservazione molto banale che farei è questa cioè nel momento in cui siamo nel pieno di una epidemia si investe in arte si investe in architettura e si investono fondi pubblici e questo può essere come dire un modo un po' dissacrante di leggere un episodio storico ovviamente c'è una componente religiosa e spirituale però di fatto in quel momento viene fatto un investimento sul patrimonio artistico che all'epoca ovviamente era inscindibile da quello spirituale che non a caso è ancora forse una come dire uno dei segna uno dei momenti civici ancora più importanti per la comunità veneziana che è la festa del redentore in cui pochissimi si ricordano per fortuna dell'aspetto pestilenziale ma in realtà in quel momento là facendo un investimento economico pubblico di decine di migliaia di appunto 10.000 ducati con il miglior architetto in circolazione per fare un monumento di arte contemporanea si sono gettate le basi poi per una festa che continua anche a secoli di distanza e che mette insieme anche residenti e turisti fatto quel decreto il doge poi però invita a fare una riflessione di giustizia e clemenza e fa un a proposito di fondazione del ghetto che avvenne durante il periodo di Pasqua invita i veneziani a paragonarsi al popolo ebraico che esce dall'Egitto e dalla schiavitù del faraone ed è molto interessante come analogia perché si ricorda che sono state grandi afflizioni in realtà in quel caso la pestilenza tocca agli egiziani ma quindi l'analogia funziona solo fino a un certo punto però c'è questa uscita si parla di aver fede però si dice anche che i veneziani devono o meglio che come gli ebrei nell'Egitto purché si convertissimo a lei col cor contritto ed umiliato e quindi per uscire dalla pestilenza bisogna anche che i veneziani facciano una sorta di esame di coscienza c'è un richiamo etico molto forte allora qualcuno l'ha detto prima molto molto bene c'è un grossissimo rischio che una volta che i vaccini e l'eroico sforzo dei sanitari e di chi deve governare la pandemia ci avrà portato dall'altra parte del Mar Rosso che si ritorni al prima si ritorni a tutti a ingozzarci di turismo e a dare un colpo finale a questa a questa città non a caso nel deserto appena usciti dall'Egitto gli ebrei cominciano già a lamentarsi dicevano no in Egitto si mangiava meglio di come si mangi qua nel deserto arriva la manna e tutto il resto ma quindi è una come dire un'analogia che ci è molto come dire interessante perché parla di conversione adesso non parliamo di conversione religiosa ma certamente c'è bisogno di una sorta di conversione etica e civile per uscire da questa pandemia ma governata dalla politica pubblica è la politica pubblica che investe in un patrimonio che capisce può essere anche un luogo di raccolta e di coinvolgimento io vorrei fare così insistere sul fatto che uno dei problemi culturali in cui secondo me ci troviamo è che per troppe persone la parola museo dà un'idea di sguardo al passato invece i musei sono tra i luoghi più vivaci e vitali oggi nel panorama culturale e quindi sono dei luoghi anche di aggregazione sono dei luoghi di incontro civile non sono semplicemente dei luoghi retrospettivi sono anche dei luoghi costruttivi il secondo punto è quello che i curatori di questo libro chiamano il panegirico c'è questo momento finale di grande sollievo in cui si dice tre righe nel vero Venetia è troppo rara e troppo singolare né si può pensare come ella già mai possi restare abbandonata poiché tanti che hanno pergrinato il mondo si risolvono alla fine di posare qui affermando di non aver veduto altra città che pareggia questa di bellezza di comodità e di sicurezza rende Venetia a chi ben la mira ed osserva di dentro e di fuori sommo diletto e stupore allora gli studiosi di rinascimento ben sanno che quando si scrivevano delle cose soprattutto in quell'epoca non erano mai solamente descrittive ma erano in qualche modo degli interventi anche in qualche modo politici allora fare un panegirico di Venezia era una forma di propaganda non era solo una forma di dire diamoci una pacca sulla spalla perché siamo riusciti e rinati dopo una terribile situazione pandemica è anche un modo proprio di di farsi pubblicità e di attirare persone cioè qui si insiste molto sul fatto che Venezia è come è stata e come ha detto di essere fin dalle sue origini un luogo in cui chi ha pergrinato il mondo può risolversi alla fine di posare qui siamo d'accordo che il pareggio non c'è pari alla bellezza anche alla comodità se confrontato al resto delle città del mondo e perfino di sicurezza salvo la sicurezza diciamo ambientale perché come si è come si è ricordato Venezia è anche la città una delle città più vulnerabili rispetto all'inalzamento dei livelli del mare e quindi è il luogo in cui riflettere molto molto attentamente su questi aspetti prossimi anni sono decisivi perché questo è il luogo in cui si concentra il massimo della vulnerabilità e potremmo dire fragilità con il massimo della bellezza creatività che si può opporre a a queste questioni climatiche e non a caso gli curatori richiamano nella loro introduzione l'opera di Amitav Ghosh La grande cecità che è un meraviglioso manifesto a a che il mondo della cultura e dell'arte si faccia carico e prenda piena responsabilità per questo aspetto diciamo ambientale che non può essere lasciato solo agli scienziati e ai tecnologi ecco mi interessa concludere dicendo che rende a Venezia chi ben la mira e ti osserva di dentro quel ben la mira noi non possiamo più permetterci di avere persone che vengono qua a non mirare bene a a a mordere e fuggere e fuggire da 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 Venezia l'investimento va fatto su chi può venire non solo e speriamo a trasferirsi qua adesso che anche lo smart working ha creato frontiere inimmaginabili fino a pochi mesi fa quindi sicuramente dobbiamo puntare a dei residenti a a tutto tondo ma dobbiamo investire molto di più a riportare gli studenti a Venezia per pensare che differenza avrebbe fatto avere non so 3.000 studenti in più in città anche durante la pandemia ricercatori artisti chi possa venire a osservarla e osservarla di dentro perché poi ci sarà diletto e stupore 20 anni dopo la peste questo panegirico così come il redentore è un monumento di pietre è uno dei tanti monumenti meravigliosi di pietre che continuano a attirare a Venezia persone dopo secoli il panegirico è un piccolo esempio di quello che sarà sempre di più il mito di Venezia e quindi gli edifici di parole che continuano a loro volta ad attirare persone 20 anni dopo la peste appunto William Shakespeare dedicherà una prima e poi qualche anno dopo una seconda opera a Venezia in cui Venezia non è la città del passato ma è la città del presente la città dell'incontro e scontro e interazione tra culture diverse la città della complessità ecco è molto importante recuperare questa dimensione Venezia città della complessità dove ragionare sulla complessità del presente Shakespeare guardava dalla periferia londinese alla centralità della Venezia repubblicana e cosmopolita ne vedeva anche i lati oscuri e non a caso citava un unico luogo per nome nella sua opera ed era Rialto What News on the Rialto perché per Shakespeare chiedersi che novità ci sono a Rialto era come dire quali sono le idee più all'avanguardia oggi quali sono le idee più importanti quindi l'augurio e la speranza che rappresenta anche il progetto Rialto di cui sono un grande ammiratore è proprio che Rialto torni a essere il centro del mondo delle idee della complessità del presente grazie mi gusta grazie allora grazie per questa per questa attività è stata molto interessante io devo dire che alle parole complessità innovazione storia che tu hai sottolineato e che sono state sottolineate durante l'incontro ne aggiungerei un'altra che è servizio e cioè secondo me una città deve avere la possibilità di avere il servizio il servizio per la comunità un servizio ai cittadini quindi artigianato negozi attività ma anche il servizio delle attività culturali devo dire che come quello della biblioteca come quello del museo un servizio alla comunità cui si fa riferimento allora ovvio noi abbiamo aperto la fondazione Perini a un museo e una biblioteca che è sempre stata un po' il cuore delle nostre attività ma è stata anche nel cuore degli studenti e dei cittadini veneziani per molto tempo e spero che lo sia ancora noi quello che abbiamo cercato di fare anche durante il lockdown è arrivare nelle case di riposo nelle scuole con dei laboratori online proponendo visite online e poi abbiamo aperto appena possibile perché questo lo sentivamo come una necessità non come un dovere come una necessità e devo dire che questo ci ha dato delle soddisfazioni in parte con i numeri ma noi siamo una piccola realtà all'interno di un parco culturale enorme a Venezia ma ci ha dato anche degli strumenti per ragionare cioè è ovvio che un museo e una biblioteca devono anche essere economici cioè devono sostenersi devono avere delle attività che possano in qualche modo garantire diciamo l'autonomia e la possibilità di erogare i servizi e questo devo dire torna con la complessità questo torna con il fatto che ogni istituzione deve poter avere una complessità di azioni e di attività che le possano in qualche modo garantire un'autonomia che è importante e fondamentale e anche un'autonomia finanziaria il rapporto con le aziende è fondamentale noi lo stiamo sperimentando tutti i giorni cercando di aumentare la nostra corporate membership e devo dire che ragionando con le aziende si trovano delle sinergie delle similitudini delle modalità anche delle filosofie diciamo ecco di lavoro che non sono mai scontate quindi grazie per questa occasione e buon lavoro a tutti grazie a te c'è Giulio Manieri Elia si è prenotato Giulio un saluto a tutti e poi naturalmente ci vediamo il tre per la presentazione del restauro del dipinto di Carpaccio da cui siamo partiti con le nostre conferenze io sono stato particolarmente felice di partecipare a questo progetto apprezzo moltissimo il lavoro che state facendo proprio anche il lavoro così di apertura dei tanti anche spunti di questi di questi dibattiti anch'io come in Marigusta vivo il museo come un servizio e non abbiamo mai fatto diciamo mai abbiamo abbiamo sempre partecipato e cercato di tenere il museo sempre aperto non sono certo che la chiusura sia determinata da questioni di calcolo di costi perché un museo anche chiuso costa moltissimo anche perché noi come dipendenti pubblici abbiamo continuato a percepire lo stipendio quindi comunque avevamo dei costi abbiamo avuto 70.000 visitatori col museo aperto e non abbiamo avuto casi covid c'era un protocollo serissimo e molto severo diciamo di contingentamento e quindi non abbiamo avuto nessun caso covid li abbiamo avuti proprio invece a museo chiuso tra il personale che al corpo di guardia quindi diciamo aver tenuto chiuso il museo i visitatori non ha non ha servito ad allontanare il covid dal museo per noi il discorso sul raggiungimento del pubblico soprattutto il pubblico prossimo è molto è molto importante qualcosa che abbiamo iniziato a fare anche prima del covid ma col covid abbiamo fatto delle grandi scoperte soprattutto nelle nostre riaperture abbiamo avvicinato un pubblico che era andato completamente in ombra dai grandi numeri del turismo di massa ci sono stati dei momenti particolarmente intensi di scambio con questo pubblico che tornava al proprio patrimonio che conosceva bene che apprezzava ed è stato per noi molto molto importante per questo motivo abbiamo deciso già nelle nostre riaperture di accogliere i visitatori con delle visite guidate che non era soltanto l'occasione così di esporci ma anche quello di ascoltare e c'è stato degli scambi molto intensi con i visitatori che conoscevano e dimostravano un'affezione al museo molto molto importante quindi considerate che adesso riapriamo il museo non appena possibile non so se il 26 ma poi nei giorni successivi comunicheremo anche questo e quindi vi aspettiamo il museo e comunque tornerò a parlarvi il 3 per la presentazione del restauro grazie a tutti grazie Giulio aspettiamo con ansia questo 3 maggio grazie a tutti grazie a tutti